Il programma della manifestazione I Cantieri dell'Immaginario, promossa dal Comune dell'Aquila insieme al Trato Stabile d'Abruzzo, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Società dei Concerti Baratelli, Solisti Aquilani, Teatro Zeta, In Scena, Gruppo Emotion, prosegue. L'appuntamento per domenica 15 luglio all'ora 21.30 presso il piazzale antistante il Palazzo dell'emiciclo ci sarà Michele Mirabella Racconta, presentato dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Michele Mirabella, con la direzione di Giancarlo De Lorenzo, accompagna il pubblico in una guida d'ascolto di famose pagine musicali, eseguite dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, alla riscoperta del valore del melodramma, della storia e della cultura del nostro paese. Il programma si divide in due momenti, la prima parte è dedicata a Gioacchino Rossini, la seconda a tre pagine celebri del melodramma italiano, dalla più antica, quella di Paesiello, alle due più moderne, Traviata e Intermezzo di Cavalleria Rusticana. Lunedì 16 luglio, sempre all'ora 21.30 nel piazzale antistante il Palazzo dell'emiciclo, il gruppo Emotion presenta lo spettacolo di danza Farà di te un sol boccone, con la coreografia di Francesca Lacava, con le musiche degli strumenti del Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila.